Ciao a tutti. Oggi nasce il governo rosso-giallorosso. Non chiamiamolo governo incostituzionale o governo non eletto da nessuno, è semplicemente un governo immorale, un governo che nasce da due forze, anzi tre forze politiche, perché si sono aggiunti anche liberi e uguali, da forze politiche che si odiano profondamente tra di loro, se ne sono dette davvero di tutti i colori, si sono chiamati stupratori, mafiosi, assassini, oggi siedono allo stesso tavolo per spartirsi l'Italia alle nostre spalle. Noi questo non possiamo accettarlo e non voteremo la fiducia a questo governo, ma voi cittadini ci dovete dare una mano. Noi tutti insieme dobbiamo andare davanti a Montecitorio alle dieci e mezza lunedì mattina per dire no a questo governo. Un programma del Movimento 5 Stelle non può essere adattato a quello del Partito Democratico, che è stato bocciato dal 70% degli italiani. Il Movimento 5 Stelle era quello che voleva stoppare il business dell'immigrazione, mentre oggi si parla di accoglienza e integrazione. Il Movimento 5 Stelle era quello che voleva aprire nuove carceri, mentre il Partito Democratico è quello che ha fatto gli svuotacarceri. Noi questo non lo possiamo accettare, quindi lunedì alle 10.30 ci vediamo davanti a Montecitorio per manifestare e sarà solo la bandiera tricolore a essere presente in piazza, non ci saranno simboli di partito, sarà il tricolore a spazzarli via una volta per tutte. Grazie, ciao, ci vediamo lunedì.